Questo è il mio kit di primo soccorso. Ovviamente è personalizzabile, anche voi potete crearvene uno da voi mettendo dentro tutto ciò che vi serve e che vi può sembrare più utile. L'importante è rispettare una regola molto molto fondamentale. Usate esclusivamente attrezzatura che conoscete, attrezzatura di cui siete capaci. Non mettete roba solo perché l'avete vista in qualche film, l'avete vista su qualche sito o ve la consigliate a un amico o addirittura ho sentito dire che si può fare così. Nulla di più sbagliato nell'ambito del primo soccorso. Quindi assicuratevi di mettere dentro solo qualcosa che davvero sapete usare con certezza. Una cosa che non può mancare è una torcia. Dovete illuminare quello che state facendo perché magari può essere buio. Quindi dovete assolutamente averne una. Possibilmente cercate una torcia che vi permetta la funzione a pipa, ovvero che non sia dritta. Dovete magari tenerla in bocca o quant'altro, ma che si possa assolutamente appendere. Prendete una simile dove ad esempio può essere appesa e fa la luce di fronte a voi permettendovi di avere le mani libere. Questo è un tourniquet o un laccio emostatico. Va usato esclusivamente se ne avete l'abilità e se sapete come funziona. Non può mancare comunque una buona forbice. Vi serve per tagliare una maglietta o per tagliare le garze e le bende. Qui ci sono delle luci di emergenza conosciute come cialume o starlight. Sono quelle che avete già visto sicuramente in qualche film che si rompono e fanno luce. È una luce molto più fioca, quindi non paragonabile a una torcia. Però indubbiamente possono essere d'aiuto. Ad esempio per farmi notare dei soccorsi quando arrivano. Agitandola in questo modo farete capire la vostra posizione e non sarete costretti a usare la torcia che magari serve al ferito. Anche un fischietto può essere d'aiuto. Considerate che magari avete delle ferite costali. Gridare può essere impossibile o non può arrivare molto lontano la vostra voce perché è flebile. Il fischietto comunque con poca aria riesce ad avere un suono che può arrivare molto, molto più distante della vostra voce. Quindi non dimenticatelo, può essere davvero utile. All'interno indubbiamente le classiche cose che trovate in qualsiasi kit non possono mancare, sono dei guanti in lattice. Cercate di non toccare mai direttamente le persone ferite, per un discorso di igiene e di prevenzione. Questo è un dispositivo che protegge voi stessi, nonché magari anche il ferito. Disinfettanti di vario tipo Potete tenere una stecco-benda. Questa non è molto difficile da usare. Semplicemente immobilizza l'arto che si è rotto, si è slogato o si è lussato con l'aiuto e l'ausilio di una semplice benda, fino all'arrivo dei soccorsi appropriati. Questo è un vendaggio israeliano, nient'altro che un pannolone assorbente circondato da una garza che va in autobloccaggio. Serve perché se devo medicarmi da solo può servire anche un braccio, quindi non necessito di avere due mani per poterlo utilizzare. È un presidio che richiede un minimo di esperienza, ma potete comprarlo e vedere come si utilizza, facendovi aiutare da qualche infermiere o di qualche addetto al primo soccorso. Una mantellina termica, vi può isolare dal freddo o dal caldo, per proteggere voi o il ferito che state soccorrendo. Bende, garze e cerotti di vario tipo, più ne avete e meglio è, quelli non guastano mai. Per finire, non dimenticate, ne esistono di vari tipi e di varie forme, una piccola mascherina per la respirazione e l'insufflazione durante la rianimazione cardiopolmonare. Quindi non mettete mai a contatto la vostra bocca con quella di uno sconosciuto, ma usate le apposite mascherine.